Il passaggio generazionale è un momento cruciale ma anche una sfida per le aziende che possono affrontare in modo vincente. Delle strategie da mettere in campo si è parlato a Silvi in occasione della terza tappa del progetto Generazioni, il road show in giro per l'Italia organizzato dal Movimento Nazionale Giovani Imprenditori in collaborazione con la Lewis Business School. Più del 65% delle aziende che fatturano 20 milioni sono aziende familiari, ovvero il tessuto della seconda manifattura europea che è il nostro paese. Dall'Abruzzo, terra ricca, ma con delle difficoltà logistiche sono riusciti a far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, ha detto il Vice Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Maria Anghileri. Le eccellenze del territorio che hanno saputo distinguersi anche per la lungimiranza nel consentire una continuità della loro impresa. anche tramite nuovi strumenti giuridici quali il patto di famiglia. Promotori della tappa abruzzese, il Presidente regionale dei Giovani Industriali di Confindustria Stefano Perazzelli e i Presidenti dei Giovani Industriali di Chieti Pescara Mirco Basilisco e di Teramo Fabio Conocchioli. La coabitazione e poi il passaggio generazionale sono un processo che deve avvenire tanto su un livello gestionale quanto su un livello culturale che crei visione per il futuro, ha evidenziato il Presidente Perazzelli. Un road show nazionale che quindi si è tenuto anche in altre regioni, ha avuto tappe in Lombardia, in Toscana, in Calabria, nel Lazio. Ha dato modo a tutti i territori di esprimere le proprie esperienze sui passaggi generazionali. Naturalmente in un paese dove il capitalismo familiare la fa da padrone, il passaggio generazionale è un momento in cui l'impresa viene messa a dura prova. E qui le esperienze dei nostri associati per capire come hanno risolto i problemi di questa fase importante. Ha moderato l'evento Mario Benedetto, giornalista, docente alla Luis Guido Carli, autore del volume La Staffetta, edito da Luis University Press. Comprendere come avviene il passaggio di gestione tra le generazioni, tradizione e innovazione, coabitazione generazionale, i temi al centro delle testimonianze portate da imprese storiche eccellenti del territorio tramite Stefania Bosco per Bosco Nesto Renco, Pierluigi Francini per LDA, Erika Rastelli per Aran Ward, Enrico Saquella per Saquella 1856. Che ascoltiamo? Sono in azienda ormai da 52 anni. Il passaggio generazionale che è importantissimo per il proseguimento dell'economia locale e dell'economia nazionale, proprio per le piccole e medie aziende a gestione familiare. Molto spesso questi passaggi generazionali finiscono in scontri, invece dovrebbero essere un momento di incontro tra i giovani e coloro che hanno portato avanti l'azienda per anni e che possono dare un contributo in termini di esperienza e maturità decisionale non indifferente. Generazione significa proprio questo per me, generare azione per fare innovazione.